E' la relazione di accompagnamento al decreto IMU, perché come è noto il decreto IMU, esattamente come era accaduto già con il decreto sui debiti della pubblica amministrazione, modifica i saldi e questa relazione pertanto è propedeutica all'approvazione del decreto IMU. Oggi la Commissione Bilancio l'ha discussa, continuerà domani, poi approderà in aula con un documento che ovviamente sarà votato dalla maggioranza.